Un opuscoletto di oltre 100 pagine per sapere dove mangiare un pasto caldo, dove recarsi per dormire e lavarsi e come ottenere assistenza medica o legale. E' la guida Michelin dei poveri, un manuale realizzato per la sesta edizione dalla comunità di Sant'Egidio, che vuole essere uno strumento utile per le 1500 persone che a Napoli vivono senza una casa. Dagli orari di apertura delle mensi ai gruppi che distribuiscono pasti e coperte in strada fino alle fontanelle d'acqua pubblica, nel nuovo libretto sono elencati una serie di servizi per i senza tetto, con una sezione dedicata anche al dove leggere e fornite indicazioni su come trovare aiuto per un totale di 450 indirizzi utili. Ognuno faccia il suo sforzo, faccia il possibile per una città più solidale. Tante sono le iniziative in corso del Comune di Napoli, oltre le soccorso, le unità di strada, i posti letto aggiunti. Tante lo sforzo delle associazioni e delle unità mobili che girano in strada per dare riparo e solidarietà a chi è allo scoperto. In città sono circa 800 le persone senza casa censite dalla comunità di Sant'Egidio nella settimana dal 31 gennaio al 4 febbraio 2012, il doppio rispetto alla prima rilevazione del 2008 e la maggior parte delle quali trova riparo in capannoni, ma anche porticati, gallerie e giardinetti. La guida ai servizi a loro dedicata è stampata in 3.500 copie con il contributo del centro di servizio per il volontariato ed è già in distribuzione gratuitamente nella zona di Piazza Garibaldi, tra le più frequentate da Essenza Fissa di Mora.